Era stato il prete della protesta in difesa dell'acqua del Riofergia, quello che suonava le campane della chiesa di Boschetto per chiamare a raccolta i fedeli nella lotta pacifica contro chi, amministratori pubblici o aziende private, voleva prendere l'acqua delle sorgenti del fiume. A suo modo un simbolo, insieme al presidente del comitato Riofergia, Sauro Vitali, di una comunità che con la sua battaglia ha fatto storia anche nei tribunali. Si è spento nella notte del 5 aprile, Don Francesco Pascolini, il parroco di Boschetto, Gaifane Col Sant'Angelo, aveva 74 anni e da due anni lottava con grande dignità contro un male che alla fine lo ha portato via. Domenica scorsa, costretto a letto dalla malattia, aveva comunque voluto festeggiare i suoi 50 anni di sacerdozio con una festa del paese, alla quale sono arrivate tante delle persone che nella vita ha amato e servito, istituzioni ma soprattutto associazioni. Sì, perché questo prete di campagna arrivato da Lanciano, comune di Nocera, parroco per due anni a Gualdo e poi dal 68 a tempo indeterminato a Boschetto, non è stato solo l'immagine della battaglia delle acque, ma anche bandiera del Gualdo Basket, di cui è stato per anni dirigente, come anche nel mondo dei giochi delle porte, portaiolo doc con il fazzolettone di appartenenza della porta di San Donato. Al vescovo Sorrentino usava dire eccellenza, non metta riunione a settembre, che io ho da fare. Nocera e Gualdo lo piangono in queste ore. La salma è stata composta nella chiesa di San Nicola di Boschetto, perché quella, aveva detto nelle sue ultime volontà, era sempre stata a casa sua. I funerali si terranno nel primo pomeriggio di domani.